hey hey ragazzi sono 601 e oggi siamo di nuovo su minecraft questo video però è speciale perché vi mostrerò una specie di mappa che ho costruito in miniatura della della casa del villaggio e tutto quanto che costruirò e che vi farò vedere in un video quando raggiungerò gli 11 iscritti quindi vedo vediamo se vi piace l'idea andiamo a vedere non badate alle case di miei vicini villici laggiù perché non c'entrano allora il la mappa è delimitata da questa linea verde la mappa qui abbiamo la mia casa principale ovviamente non sarà piccola con una cuccia di fuffi però questa è solo la mappa ovviamente un laghetto e che da un sentiero con qualche bottega qua e là un ristorante e qua una montagna e porta la casa in montagna poi andando avanti cioè si ci si addentra nel bosco tutti gli alberi e poi a un certo punto si ci sarà anche un faro una barca e anche questo che è nuovo un vulcano e poi girando di qua c'è la forella la giungla cioè questa qui che vedete anche dietro con la casa sull'albero e già stanno crescendo gli alberi perfetto e poi vi faccio vedere anche i sotterranei niente di che ma ecco con qualche arredamento e qui un minecart che parte per la galleria di là no il menà di gioco no eh ok e infatti come vedete tutte le cose che che erano dentro la mappa che non ci dovevano essere le toglievo infatti questo albero è stato tagliato a metà come è giusto che sia e bene spero che l'idea vi sia piaciuta adesso è meglio che stop il video perché sennò mi crescono tanti di quegli alberi che va bene allora direi che il video questo breve video può finire qui iscrivetevi e ci vediamo alla prossima ciao ciao